come state prendendo la tormentina? si stiamo prendendo la tormentina che vela è questa? questo è un fiocchettino in dacron per veleggiate cosa si prevede? ma visto così probabilmente andiamo oltre i 30 nodi sicuramente oggi molto tranquillo a scendere e a ritornare un po' di bordo la pasta asciutta la facciamo? la pasta asciutta rigorosamente di buonino o di poppa? no ci fermiamo a cala fighera un attimino ridossati facciamo la pasta asciutta e poi proseguiamo ti abbiamo visto stamattina montare la tormentina? no il fiocchetto 1 oggi ci stava tutto è 30-35 nodi di mestrale e quindi dovremmo andare decisamente di conserva tant'è che tante imbarcazioni hanno fatto così alcune sono ritirate è stata una bellissima veleggiata comunque ascolta ma il pasta asciutta l'avete fatta? il pasta asciutta l'abbiamo fatta certamente una volta ci siamo ormeggiati in porto perché non è stato possibile mai voi con il 55 piedi giusto? si com'è andata? spruzzi? spruzzi? un pochino si no noi come barca abbiamo avuto quei problemi in partenza per cui siamo partiti solamente col Genoa poi ci siamo rimessi in assetto e alla fine anche in reale siamo andati bene però insomma la cosa importante è stata a fare una belle veleggiata insieme alle altre barre da ripetere? assolutamente si soprattutto la spaghettata in questo vento grazie a tutti